Medici, paramedici e civili in aiuto dei meno fortunati che vivono lontano dal nostro paese. È partito ufficialmente ieri il viaggio dei volontari di cantiere missionario che porteranno aiuti e formazione a Bukoba in Tanzania. Verrà inoltre allestito un vero e proprio ambulatorio con attrezzature donate da tutti gli ospedali della Campania. A simboleggiare le donazioni un gagliardetto con lo stemma del comune di Nocera Inferiore. Porteremo in nome dell'amministrazione di Nocera Inferiore questo gagliardetto per l'amicizia e la solidarietà che ci lega a quel popolo. Chiunque può fare parte di questo progetto può contattare la nostra associazione, posso lasciare il mio recapito che è il 339 77 91 190. Basta contattarci e farà parte della nostra associazione per le future missioni. Ho maturato l'idea quest'anno di rivivere anche io l'esperienza. Loro hanno fatto già una missione due anni fa e quest'anno è per la prima volta che partecipo a questo progetto. Questo progetto fino adesso ha portato innanzitutto a una costruzione di una casa nostra dove noi ci possiamo ospitare. Perché l'altra volta sono andato un po' praticamente non avevano dove appoggiarsi. Adesso abbiamo un punto di riferimento che abbiamo fatto con i fondi raccolti, un po' con i teatri, con le cose. È stata costruita questa casa del missionario. Praticamente noi andremo presso gli ospedali e presso i villaggi e le orfanotrofie a portare aiuti a persone che hanno bisogno. Praticamente noi andiamo livelliastrofie. Grazie.